Yuri Keki, Prato, 11 ottobre 1969, è un ex ginnasta italiano. Soprannominato il Signore degli Anelli evidente citazione del romanzo di Tolkien, ha dominato la specialità degli anelli negli anni 90, riuscendo a dare all'Italia una medaglia d'oro olimpica nella ginnastica alle Olimpiadi di Atlanta 1996, 32 anni dopo la vittoria di Menichelli nel corpo libero e alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Biografia. Carriera sportiva. I genitori lo chiamano Yuri in onore del cosmonauta russo Gagarin. Da bambino, piccolo di statura e magrolino, non è certo dotato di un fisico che fa presumere una carriera sportiva. La sorella però frequenta una palestra di ginnastica artistica, la società Etrura di Prato, e Yuri finisce per appassionarsi a questo sport, così che nel 1976 i genitori decidono di iscrivere anche lui. Nel 1977, Yuri centra il primo di una serie innumerevole di successi, piazzandosi al primo posto del campionato regionale toscano. Nel 1984 entra nel giro della Nazionale Juniors di Ginnastica, e si trasferisce a Varese per poter studiare e contemporaneamente allenarsi nella palestra della celebre Società Ginnastica Varesina, specializzandosi nella disciplina degli anelli. Dal 1989 al 1995, sotto la guida del suo allenatore Bruno Franceschetti, vince sei titoli italiani consecutivi, i giochi del Mediterraneo, le universiadi, quattro titoli europei e cinque titoli mondiali. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Seoul del 1988, che chi si è rivelato nel 1989 con un terzo posto agli anelli ai mondiali e l'anno successivo ha conquistato il titolo europeo della specialità. È terzo anche ai mondiali del 1991, anno in cui agli undici giochi del Mediterraneo vince sei medaglie d'oro rispettivamente negli anelli, corpo libero, cavallo con maniglie, parallele simmetriche, concorso generale individuale e concorso generale a squadre. Nel 1992 è il grande favorito per la gara degli anelli alle Olimpiadi di Barcellona ma, circa un mese prima delle gare, si rompe il tendine d'Achille durante un allenamento ed è costretto a rinunciare alle gare. Che chi non si perde d'animo, va a Barcellona a commentare le gare di ginnastica per la televisione e tornato alle competizioni l'anno successivo, si è aggiudicato per cinque volte di seguito il titolo mondiale, diventando il primo ginnasta della storia a vincere cinque oriri dati consecutivi in una specialità. Queste vittorie, le prime per un atleta italiano dai tempi di Franco Menichelli gli fanno valere il soprannome di Signore degli Anelli che, riferendosi agli strumenti ginnici, parafrasa il titolo del famoso romanzo di Tolkien, di cui ha dichiarato essere appassionato. Tale soprannome, però, i giornalisti l'hanno attribuito anche ad altri atleti abili nella disciplina come il bulgaro Jovtcev e il greco Tampakos. Ha colto poi il massimo all'oro trionfando anche ai giochi olimpici di Atlanta del 1996, anno in cui ha conquistato anche il suo quarto titolo europeo dopo i successi nel 1990, 1992 e nel 1994. Sempre negli Anelli, ha ottenuto anche due vittorie in Coppa Europa, 1991 e 1995. Notevoli sono stati anche i suoi risultati nel concorso generale, dove può vantare un terzo posto agli europei e una vittoria e un terzo posto in Coppa Europa, 1991 e 1995, nella sbarra, con un oro e un bronzo in Coppa Europa, 1991 e 1995, e nel Corpo Libero, dove è stato terzo agli europei del 1992. Dopo aver annunciato il ritiro nel 1997, torna a competere nel 1999 con l'obiettivo di Sydney 2000, la rottura del tendine brachiale lo costringe però a saltare il torneo, facendo paventare al contempo un abbandono definitivo dell'agonismo. Nel 2003, per via di una promessa fatta al padre che era guarito da una malattia, decide però di tornare ad allenarsi. All'età di 34 anni partecipa quindi ai giochi di Atene, in cui è tra l'altro il portabandiera della spedizione azzurra nella cerimonia inaugurale. Nella finale del 22 agosto 2004, conquista un inatteso bronzo, l'oro viene assegnato al greco Dimostenitampakos, tra le polemiche generali. Un successivo riesame della gara, effettuato tre mesi più tardi da una giuria neutrale, avrebbe attribuito la vittoria allo stesso Chechi, il quale però avrebbe assegnato l'oro al bulgaro Jovtchev. Nel 2005 è stato pubblicato un libro che ripercorre la sua carriera. Dopo il ritiro Poco dopo il ritiro ha ricevuto la laurea onoris causa in scienze motorie dall'Università degli Studi del Molise. Il 10 febbraio 2006, nella veste dello sciamano del fuoco, apre la cerimonia di apertura ai giochi olimpici invernali di Torino colpendo con un martello d'oro una fiammeggiante incudine. Ha anche svolto il ruolo di consigliere comunale a Prato. È spesso apparso in televisione e nelle vesti di ospite, come alla strana coppia o buona la prima, ma anche come conduttore. A partire dal 2008 copresenta infatti, prima con Marco Mazzocchi e poi con Antonio Rossi, il programma Ninja Warrior in onda sul canale satellitare GXT. Inoltre nella stagione televisiva 2006 fratto 2007 ha partecipato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi in veste di supervisore degli allievi di ginnastica artistica. Durante le Olimpiadi di Londra 2012 ha lavorato per Sky Sport come commentatore. Sempre per Sky Sport Uri che chi conduce a partire dal novembre 2013 una trasmissione televisiva settimanale dal titolo Più forza nella vita, ideata. Nel 2014 e nel 2015 è invece giudice di Si può fare, talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel 2016 si è candidato alle elezioni per la presidenza della Federazione Ginnastica d'Italia. Nel 2019 partecipa al programma Eurogams in qualità di arbitro e giudice del gioco. Vita privata è legato sentimentalmente a Rosella, da cui ha avuto Dimitri, nato nel 2003, e Anastasia, nata nel giugno 2005. Durante un'intervista si è dichiarato ateo. Questo audio usa il materiale della pagina Wikipedia Yuri Keki il cui indirizzo è it.wikipedia.org slash wiki slash yuri underscore keki che è rilasciato sotto la licenza creative commons attribution sheroike 3,0 unported cc by sa 3,0 vedi informazioni all'indirizzo creativecommons.org slash licenses slash by sa slash 3.0 Grazie a tutti.